Continua e incessante soprattutto sui social la polemica legata alla installazione degli ombrelli come elementi decorativi lungo il corso principale di Gela. Continua soprattutto all'indomani di un episodio che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi. Uno degli ombrelli staccandosi dal filo è infatti precipitato colpendo al volto una giovane donna che è ricorsa alle cure del pronto soccorso del Vittorio Emanuele. La reazione di indignazione dei passanti è stata immediata. Il racconto del consigliere comunale Giuseppe Ventura che proprio in quel momento stava percorrendo lo stesso tratto del corso in cui si è verificato l'episodio. Ho visto quello che noi temevamo che accadesse e poi è accaduto. Un ombrello è finito addosso ad una ragazza che si è fatta pure male, è andata a pronto soccorso dall'altro vicino l'occhio ma quello che è più grave è che accanto a pochi centimetri c'era un bimbo di pochi anni che ha rischiato che l'ombrello andasse a finire addosso al bimbo. Ma non solo, questo gruppo di persone che tra l'altro non erano di gelo, erano di fuori, hanno inveito contro la città, tra l'altro hanno pure individuato dei vigili urbani appunto prendersela contro i vigili urbani. In realtà ho fatto capire, ho cercato di far capire loro che in realtà la città è contro questi ombrelli e che l'unico responsabile di questo scempio è il sindaco e il suo assessore Catania. Io cos'è che dico? Io per carità si dovrebbe parlare di tutto tranne che di ombrellini, ci sono tantissimi problemi da risolvere e non si può perdere tempo a parlare di ombrelli però questa amministrazione comunale ci costringe ancora a parlare di ombrelli perché basterebbe fare un passo indietro e chiedere scusa alla città e togliere questo pericolo perché non si parla più di ombrelli, se sono belli o sono brutti. C'è un pericolo che ingombe sulla città e sui cittadini e è il dovere del sindaco togliere un pericolo, altrimenti rischia anche di commettere un reato. Non solo, vorrei anche sottolineare che questo sindaco e questa amministrazione che ha l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini la mette in pericolo con gli ombrelli, con i cani randaggi perché sono notizie di quasi tutti i giorni c'è gente che va a finire in ospedale perché i cani randaggi aggrediscono appunto i cittadini e anche con i sensi di marcia, c'è stato un cambiamento repentino dei sensi di marcia anche in quel caso tantissimi incidenti stradali ancora una volta a mettere in rischio l'incomunità dei cittadini. Io non ho mai visto un sindaco che invece di tutelare la salute dei cittadini la mette in pericolo. Consigliere, ieri quindi tanta paura e soprattutto la paura di altri cittadini di altri passanti che temono che possa ripetersi. Sì, tra l'altro tutti i passanti che hanno fatto poi Comunella attorno appunto a quanto accaduto mi chiedevano proprio quello, cioè mi chiedevano di intervenire sul sindaco per farli eliminare per farli rimuovere, tra l'altro più volte sono cadute ombrelli che per fortuna sono finite addosso alle macchine però cosa stiamo aspettando ancora? Io do al primo cittadino cinque giorni di tempo a partire da oggi per togliere questa ombrella tra l'altro poi farò un esposto per omissione di altri uffici perché non si può ancora aspettare che accada veramente l'irreparabile.